Se non avete mai sentito nominare Luigi, vi lo dico subito, siete voi in torto, eh? Campione del mondo e primatista del mondo del lancio del giavellotto per la categoria atleti, disabili, intellettivo e relazionali. Ma da quanto è che è stato insieme? Cinque mesi. Com'è Gigio? È un ragazzo molto carino, molto tranquillo e aperto comunque a livello relazionale a ogni persona che incontra e ogni giorno, diciamo, dimostra a tutti noi la sua gentilezza e soprattutto la sua mancanza di pregiudizi che è molto importante. Ascolta, questa è la risposta per la stampa. La risposta vera avrà anche dei difetti Gigione, no? Difetti? Guarda Gigio come guarda preoccupato. Questo che sembra ballare con Gigio è Gianluca Tamberi. Il suo allenatore. Ed è grazie anche a Gianluca che Gigio sta raggiungendo misure mai toccate da un atleta della sua categoria. Per cos'era l'esercizio? Per rinforzare un paio, ci piedi. Tu ci credi Gigio? Ci credo molto bene in Dio. Bravo. Una corsa o una passeggiata, non ho capito? Gianluci piedi, mi stimare e facciamo una passeggiata. Ah, ok. Importante è saperlo. Il rapporto tra i due è quanto di più puro ci possa essere. L'uno è parte dell'altro. Gianluca, ex primatista italiano juniores del lancio del giavellotto, ha una naturale propensione verso Gigio. Ed entrambi sono follemente innamorati dell'atletica. Grazie. Ancora due. Bravo. Gianluca, e l'iscrizione. Grazie. 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 Grazie.